Con il taglio del nastro ieri è entrato in attività il nuovo centro vaccinazioni anti-covid nella scuola edile di San Vittorino all'Aquila. L'obiettivo di Regione ASL è accelerare sulle inoculazioni effettuandone fino a 800 al giorno. Il centro messo a disposizione da Lance ha 16 linee vaccinali e 350 posti auto. Sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 e potrà contare su una dotazione completa di personale tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Abbiamo una tabella di marcia che dobbiamo necessariamente rispettare e credo che questa struttura sarà un ulteriore elemento in più di forza per poter rispettare questi tempi e questi numeri che ci sono stati dati. Il nuovo polo prende il posto di quello che era stato collocato all'interno del MUSP di via Ficara. Gli utenti che si sono prenotati per fare il vaccino Covid nella vecchia sede fa sapere la ASL Aquilana d'ora in avanti dovranno recarsi al nuovo centro di San Vittorino. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. È in un'ottica di miglioramento e di qualificazione anche dell'offerta sanitaria di questo territorio. Vaccinare di più e vaccinare più velocemente è una delle tre strategie insieme al rispetto delle regole e alla necessità del tracciamento dei contagi per uscire definitivamente dalla pandemia e finalmente non soltanto respirare libertà ma ridare ossigeno a coloro che più di altri sono stati colpiti dall'emergenza.